Gloriano Lanciotti è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Teramo. Il 34esimo per l'esattezza, eletto dal Consiglio Camerale alla prima votazione e con larghissimo consenso, guiderà l'ente teramano sino alla fusione con quello dell'Aquila. Un anno importante, ma che anno l'aspetta veramente? Ma io credo un anno di un grande impegno, una grande responsabilità, perché comunque noi siamo partiti con un progetto di accorpamento tra le due Camere di Commercio, l'Aquila-Teramo, però è tutto da costruire. Noi dobbiamo costruire una grande ente, con un grande brand, un grande nome, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Una Camera unica in Italia, perché abbiamo solo noi il Gran Sasso, unica perché è la regione, il territorio più verde d'Europa e d'Italia, unico perché abbiamo grandi potenzialità, grandi eccellenze, il turismo e tutto quello che c'è da mettere in campo per far ripartire le nostre economie dei due territori. Tutti i consiglieri, insomma, uniti su di lei? Sì, io sono molto contento, sono onorato, essendo molto la responsabilità di questo compito che mi hanno dato, significa che in questi mesi, in questi anni abbiamo lavorato bene, abbiamo dato un contributo insieme al compianto Cavaliere Gian Domenico Di Sante che ha avuto l'onore di lavorare a fianco, al suo fianco, in questi ultimi mesi, soprattutto quando poi lui ha avuto quella terribile malattia e, ripeto, lo ringrazio anche per gli insegnamenti che ci ha dato e che mi ha dato. E quindi il consiglio si è affidato a me nel segno della continuità di un progetto che era partito già da molto tempo.